Firenze Smart Firenze in Pruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti per il traffico intenso tra Ginestra-Fiorentina e Firenze-Scandici. Oggi sciopro degli autobus in Toscana dalle 14.30 alle 22.30 e della tramvia a Firenze dalle 9.30 alle 17.00, quest'ultimo con possibilità di disservizi per tutto il giorno. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!